un cordiale saluto a tutti benvenuti su zanfx il canale dedicato al mondo del trading attenzione perché oggi stiamo per presentarvi un evento internazionale quindi attenzione fate molta attenzione mettetevi comodi anche perché stiamo per presentarvi il primo contest mai organizzato in italia da the trading pit uno dei nostri partner ufficiali di zanfx e allora a parlare di tutto questo abbiamo i nostri ospiti e allora andiamo subito a dare il benvenuto al responsabile italia dei trading pit fabrizio alessandro ciao fabrizio ben trovato buonasera michele ciao costantino è un piacere essere qui con voi questa sera grazie per questo invito c'è un'occasione speciale direi assolutamente sì assolutamente sì ogni qual volta ci sei c'è sempre qualcosa di speciale da presentare a tutti i nostri amici e poi un super saluto lo diamo anche al nostro responsabile zanfx costantino zenonos eccolo qua ciao costa bentrovato ciao michele ciao fabri ciao a tutti eccoci allora in forma smagliante dopo le vacanze belli rilassati belli abbronzati siamo qui appunto per presentarvi questo grande evento come vi preannunciavo all'inizio del nostro appuntamento allora partirei subito da te fabrizio ecco parliamo di questo grande evento di questo primo contest mai organizzato in italia da the trading pit di cosa si tratta fabrizio allora come hai detto benissimo è la prima volta in assoluto che viene organizzato questo tipo di contest in italia cioè un contest proposto sponsorizzato più che altro da una prop firm che è the trading pit è ovviamente un evento così speciale non potevamo che organizzarlo con il partner numero uno di the trading pit in italia che è zenfx e tra l'altro questa iniziativa nasce come diciamo follow up di una bellissima esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso che è stato proprio il contest fra i formatori italiani più famosi che è stato seguitissimo avevamo più di 300 ospiti a ogni webinar a ogni sfida che ha visto come protagonisti questi grandi trader e formatori italiani e quindi abbiamo deciso insieme a costantino zenfx di dare questa opportunità anche a un pubblico più vasto quindi non solamente i formatori ma tutti i trader che hanno voglia di cimentarsi di mettersi alla prova attraverso un contest di trading quindi è la prima volta in assoluto che facciamo un'iniziativa di questo di questo genere e the trading pit immediatamente ha adorato questa iniziativa è divertente è interessante e poi quando c'è la competizione di mezzo c'è sempre intrattenimento e questo è l'altra occasione che ci dà questo contesto quella di stare insieme di confrontarci e parlare di trading ancora una volta tutti insieme esatto sì esattamente scusami ti stavo interrompendo assolutamente assolutamente no fabrizio ecco dicevo ogni qual volta ci si organizza quindi c'è di mezzo the trading pit e zenfx oltre a essere un evento c'è anche grande divertimento appunto come dicevi anche tu e quindi abbiamo avuto modo l'anno scorso appunto di assistere al contest con tutti i formatori che è stato molto divertente e quindi quest'anno vogliamo replicare questo grande successo però ecco con tutti i trader che vogliono mettersi in mostra e allora voglio subito chiedere a costantino costantino un po la finalità di questo contest organizzato questa grande idea che hai avuto insieme chiaramente anche a the trading pit a organizzare questo grande evento costa sì innanzitutto ringrazio fabrizio del trading pit ecco per questa opportunità per questa nuova collaborazione come diceva fabrizio dopo il successo ecco dei contest formatori visto che comunque nei contest formatori tanta gente voleva partecipare e non avevano i requisiti lato esperienza eccetera per la formazione abbiamo deciso di farne uno aperto a tutti dove è ancora più interessante perché è anche bello vedere magari dei formatori che si sfidano anche con dei degli appassionati dei trader e vedere il risultato finale quindi abbiamo deciso di fare questo contest aperto a tutti un contest anche oserei dire anche divertente siccome comunque c'è un tempo di 30 giorni e ci sono diciamo delle condizioni ecco da rispettare ma non troppo severe quindi che consentono anche di divertirsi e alla fine vedremo chi avrà la meglio una grande opportunità di visibilità per tutti visto che il contest dell'anno scorso come numero totale era superiore a mille iscritti tra partecipanti sfidanti eccetera quindi prevedo un numero ancora superiore in questo in questo contest qui che essendo aperto a tutti e quindi una grande opportunità di visibilità perfetto ecco allora costa entriamo un po nel vivo cominciamo a vedere un po come si può accedere a partecipare a questo contest sì allora abbiamo una ho creato una pagina sul sito sul sito di nfx official nfx prime contest dove dopo una breve intro c'è subito la possibilità di partecipare avete ovviamente la possibilità di partecipare sia come sfidanti che come semplicemente seguire per seguire il contest c'è tutto spiegato il regolamento in dettaglio quindi tutte le valgono ovviamente tutte le regole di the trading pit magari la parte regolamento la lascio dopo a fabrizio vi dico brevemente che inizia lunedì di 16 settembre quindi lunedì prossimo chiunque come detto prima si può iscrivere e termina dopo 30 giorni ovvero mercoledì 16 ottobre bisogna chiudere tutte le posizioni abbiamo anche stabilito dei premi per tutti i partecipanti partecipare tra l'altro è il costo di una challenge di 99 euro e si ha l'opportunità di vincere sia il primo il secondo il terzo classificato vincono delle challenge gratuite importi da 100 mila 50 mila da 20 mila ovviamente anche un certificato firmato da zfx e anche da the trading pit e anche abbiamo anche dei premi per i cinque trader fuori dal dal podio i cinque trader fuori dal podio ovviamente devono anche loro aver raggiunto la percentuale minima che abbiamo stabilito per questo contest ve la spiegherà dopo fabrizio anche questa che rende il contest ancora più interessante e anche loro riceveranno una challenge in omaggio il vincitore di questo contest quindi il primo classificato sarà invitato da me a svolgere un corso formativo dove ci potrà dettagliatamente spiegare e non solo far vedere anche in pratica come ha vinto quindi andremo a scoprire e imparare la strategia che ha adoperato essendo una strategia vincente perché noi credo che sia interesse di tantissima gente essendo il vincitore di imparare come ha fatto e perché no replicarla vi costa solo 99 euro partecipare a questo contest che sono dei soldi che andate ad acquistare una challenge di the trading pit tra l'altro durante questo contest settimanalmente verrà aggiornata la classifica ogni venerdì all'interno del sito quindi come dicevo prima chi vuole seguire basta che si registra accede e avrà vedrà la classifica dove ci sarà il nominativo nome cognome il saldo l'equity il profitto il profitto percentuale con aggiornamento settimanale e settimanalmente quindi inviteremo i primi classificati a partecipare a delle dirette dove potremo iniziare a scoprire come operano su quali asset operano insomma conoscere anche loro stessi chi sono eccetera eccetera quindi diciamo un contest molto interessante anche le regole che sono state stabilite ecco di comune accordo con dei trading pit credo credo che siano ecco studiate molto bene assolutamente assolutamente tutto molto chiaro quindi attenzione dal 16 settembre vi ricordo ancora una volta parte questo grande contest internazionale quindi potete iscrivervi tutti quanti come ben sapete sulla nostra pagina del nostro sito zenefixofficial.com trovate tutte le informazioni in merito e allora andiamo a vedere caro fabrizio quello che è il regolamento di questo contest come funziona allora per questo contest noi abbiamo creato una challenge apposita che è leggermente diversa da quella a cui possono accedere tutti attraverso il sito di dei trading pit allora innanzitutto diciamo che il contest verrà svolto sulla piattaforma metatrader 4 avremo delle condizioni particolari su questo conto che riguardano in particolare il drawdown massimo come sapete nelle challenge e poi anche nei piani reali con dei trading pit abbiamo sia un drawdown giornaliero che adesso è al 4% sia un drawdown massimo che è del 7% per lasciarvi maggiore libertà operativa nella challenge che abbiamo creato abbiamo impostato un drawdown massimo statico che quindi non cambia a seconda dei movimenti dell'equity del 10% mentre il drawdown giornaliero non verrà proprio applicato questo è dovuto al fatto anche che la sfida durerà solamente 30 giorni quindi vogliamo lasciarvi la massima libertà di operare come siete abituati a fare ma dandovi sempre chiaramente un limite massimo che è quello del 10% statico l'obiettivo del per vincere la challenge è quello di ottenere il maggior guadagno possibile è superiore naturalmente rispetto a tutti gli altri in termini monetari ma calcoleremo chi ha fatto più soldi quindi most money made diciamo è la logica della classifica finale dopo aver ottenuto un obiettivo minimo di profitto del 10% come vi ha detto costantino avrete 30 giorni per fare il vostro trading e dovrete fare trading per almeno 5 giorni ovviamente noi abbiamo deciso di dare la possibilità di prendere solamente una challenge per persona così la performance verrà realizzata su un singolo conto sarà autentica e insomma non sono ammessi tentativi tentativi ulteriori come vi diceva costantino iniziamo lunedì 16 settembre si chiuderà tutto mercoledì 16 ottobre alla chiusura del mercato 23 server time quindi server di cipro dovranno essere chiuse tutte le operazioni per adesso abbiamo un termine di iscrizione massimo del 30 per cento perché poi del 30 settembre quindi sarà possibile entrare anche in corsa ma il nostro consiglio è quello di non perdere tempo e di iniziare insieme a tutti gli altri lunedì prossimo queste sono le regole di base le ripeto le riassumo velocissimamente piattaforma mt4 drawdown massimo del 10 per cento drawdown giornaliero non applicato vince chi ottiene il maggior guadagno oltre l'obiettivo minimo di profitto del 10 per cento naturalmente verranno applicate verranno monitorati i conti e verranno applicate tutte le regole di the trading pit relative alle pratiche di trading proibite che potete trovare sul nostro sito trovate il link nella pagina che descrive su zenfx le caratteristiche del nostro contest perfetto allora molto chiaro fabrizio e sicuramente ci sarà grande interesse da parte di tutti i nostri amici che seguono assiduamente zenfx e the trading pit quindi a questo punto caro costantino per completare oltre il regolamento ricordiamo ancora i tanti premi che saranno elargite a tutti i vincitori quali saranno sì ci saranno i premi per i primi 8 per i primi 8 classificati di base quindi per i primi tre che saranno sul podio challenge prime cfd da 100.000 gratuita che potrà scegliere a scelta tra uno due fasi parlo del primo classificato più il certificato ovviamente che attesta il primato secondo classificato una challenge prime cfd da 50.000 gratuita a scelta una o due fasi più il certificato ovviamente della sua posizione del secondo posizionamento e il terzo classificato challenge prime cfd da 20.000 gratuita a scelta 1 o 2 fasi più il certificato terzo posto intanto sottolineo che queste costano di più di quanto il premio d'ingresso abbiamo messo come costano di più di quello che costa ecco partecipare a contesto per 99 abbiamo messo il prezzo più basso ecco che che ha dei trading pit come challenge e tutti i premi sono premi che costano di più i primi 5 trader al di fuori del podio che raggiungeranno a ricordo comunque come ha detto fabrizio almeno il 10 per cento riceveranno in omaggio una challenge prime cfd da 10.000 ma a due fasi e secondo me un premio molto importante al di là di queste challenge e la visibilità che avrà il primo classificato che ripeto avrà l'opportunità di fare un corso per zfx ricordo che i nostri corsi sono molto seguiti tra l'altro anche valutati anche come molto interessanti eccellenti su traspilot quindi sicuramente ci saranno tantissime centinaia di persone a vedere anche quel corso che il formatore vincitore di questo contest farà insieme a noi esattamente e allora ricordatelo eccolo ancora una volta in sovrimpressione zfx prime contest questo grande contest internazionale sponsorizzato da the trading pit che partirà il 16 di settembre a soli 99 euro vi dà la possibilità appunto di accedere nel mondo farvi notare e quindi poi essere uno dei formatori di zfx per ecco appunto seguire la vostra strategia vincente quindi fare corsi di informazioni anche con zfx e non solo anche perché insomma come avete visto ci sono tanti premi poi per tutti gli altri partecipanti dunque ricordatelo non fatevi scappare questa grande opportunità che zfx con la partnership di the trading pit mettono a vostra completa disposizione tutte le informazioni le trovate sul nostro sito zfxofficial.com come vedete ancora in sovrimpressione per iscriversi al contest basta cliccare questo link per tutte le informazioni ecco basta cliccare appunto questa parte in alto che trovate sul nostro sito internet bene allora una piccola parentesi che mi dimentico semplicemente per motivi organizzativi visto che stiamo facendo una classifica online anche sulla pagina eccetera abbiamo deciso questo primo contest eccetera di limitarlo ai primi 100 iscritti ok quindi apriamo le iscrizioni si potete iscrivere fino al 30 settembre però si termineranno comunque eh prima del 30 settembre o appena si raggiungono i 100 partecipanti perfetto perfetto allora correte in massa è un in bocca al lupo a tutti i partecipanti e allora io vado a ringraziare come sempre il nostro caro eh responsabile italia fabrizio alessandro grazie a fabrizio ancora una volta per ecco eh aver sponsorizzato questo altro grande evento con zenefx grazie a fabrizio grazie mille a voi eh le cose che facciamo insieme sono sempre interessanti belle e quindi non ogni volta è come è come la precedente sono veramente felice che stia iniziando questa iniziativa grazie a voi quindi è sempre davvero un piacere insomma collaborare con gli amici di the trading pit un super saluto un super ringraziamento va anche al nostro responsabile zenefx costantino zeronos costa allora un in bocca al lupo a tutti i nostri amici lo diamo beh in bocca al lupo a tutti sarà sicuramente un grande spettacolo una grande battaglia ringrazio anch'io fabrizio ringrazio the trading pit per questa opportunità e ovviamente te michele come sempre grazie vedremo delle belle assolutamente sì noi monitoreremo come sempre tutto questo faremo delle dirette sporadiche per appunto eh tenere sempre i riflettori accesi su quest'altro grande evento firmato zenefx e the trading pit e allora a questo punto non mi resta ancora che ringraziare i nostri ospiti fabrizio alessandro zenefx un super grazie va a tutti quanti voi rivediamo ancora un'altra volta in sovrimpressione la pagina dedicata al nostro primo contest con the trading pit in italia eccolo qua zenefx prime contest partirà il 16 di settembre e allora a questo punto non mi resta che fare un in bocca al lupo a tutti i partecipanti noi chiaramente ci vediamo a un altro grande evento firmato zenefx e the trading pit un saluto a tutti e in bocca al lupo a tutti a tutti